Benvenuti, in questo video recensisco il libro Il mutevole ordine del mondo di Ray Dalio in uscita in Italia a metà 2022, in America è già uscito per il sommario del libro ho fatto un video apposito e vi consiglio di andarlo a vedere se non sapete assolutamente di cosa stiamo parlando mi focalizzerò sui punti più critici del libro, quelli che mi hanno fatto storcere un po' il naso e vi spiegherò perché secondo me Ray Dalio ha avuto quella visione lì se il video riscuoterà un buon successo produrrò una terza parte focalizzata sul lungo capitolo riguardante la Cina in cui spiega la storia, la filosofia e il motivo per il quale Ray Dalio è estremamente bullish sul paese del dragone quindi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se avete voglia di imparare qualcosa in più grazie allora il libro si apre sui ringraziamenti a personaggi di spessore Eric Kissinger, quindi diplomatico, molto odiato all'interno di certi ambienti politici Lee Kuan Yew, che sarebbe quello che ha ammodernato Singapore e l'ha reso il trionfo del capitalismo però comunque il governo era autoritario e questa parte tornerà più avanti Mario Draghi, presidente BCE, adesso presidente del consiglio Paul Walker, presidente della Fed Larry Summers, economista Neil Ferguson, uno storico che ha scritto un libro molto interessante che vi consiglio The Ascent of Money su cui hanno fatto anche un documentario che probabilmente trovate gratuitamente su YouTube che vi consiglio e tanti altri che non riconoscevo a parte un presidente della Cina dopo Deng in ogni caso, secondo me, è interessante andare a vedere chi ha ringraziato per capire come pensa Dalio chi sono i suoi idoli, quali sono le sue fonti di ispirazione il libro si apre con il solito preambolo secondo me è uno stile narrativo per far vedere che lui è comunque vicino a noi e lui, come vi ho già raccontato nel video precedente, quindi non approfondirò questo punto qui parla di quando andò a perdere tanti soldi con il Nixon Shock del 71 in cui credeva che il mercato sarebbe crollato perché di fatto veniva annunciata la svalutazione del dollaro ma accadde proprio l'opposto per quanto riguarda le critiche che posso muovere al libro, e saranno parecchie nomina molto poco l'Italia storica, quindi ad esempio le repubbliche marinare il triunfo di Venezia, Genova e così via secondo lui non furono i veneziani a diventare il capitalismo moderno e a me quello che hanno insegnato e quello che, se non ricordo male, è scritto anche nel libro di Neil Ferguson è che i veneziani, prima cosa, avevano trovato il modo per finanziare tutte le scoperte quindi di fatto avevano un mercato obbligazionario interno e sono stati i primi ad inventarlo seconda cosa, sono stati i primi, ben prima di Henry Ford, ad inventare la catena di montaggio e quindi un processo produttivo efficiente quindi secondo lui, gli olandesi hanno inventato il capitalismo perché sono stati i primi che avevano il mercato azionario, la borsa e avevano le nave migliori costruite dal designer olandese che erano i migliori secondo me non è affatto vero quello che ha dato lui come spiegazione e secondo me sta facendo un po' di revisionismo, magari non apposta comunque considerate che lui, o meglio il padre, è Italo-Americo si chiamava Marino Dall'Olio e poi hanno italianizzato il cognome Ray Mondalio un altro passo in cui si incespica è quando parla di intelligenza artificiale lui dice che l'intelligenza artificiale può pensare meglio dell'uomo può ambientare la capacità creativa di ragionare dell'uomo e così via ma questa è un'intelligenza artificiale di tipo strong noi non siamo minimamente vicini a questo tipo di intelligenza artificiale magari nel 2040 o nel 2050 si può vedere un qualcosa del genere sempre che il trend di crescita dell'intelligenza artificiale sia di tipo esponenziale e non lineare e comunque poi va programmata questa cosa qui e quindi secondo me sull'intelligenza artificiale lui non l'ha capita bene stessa cosa sul quantum computing dice che sarà la rivoluzione però al momento non si è visto quasi niente e poi le macchine saranno da programmare per funzionare secondo la fisica del quantum computing quindi già su questi temi non è molto ferrato non lo so neanche io però io so quali sono le mie limitazioni diciamo e stessa cosa poi dirà della programmazione dirà che chi non saprà programmare in futuro sarà considerato un analfabeta anche se in realtà adesso stiamo vedendo il fenomeno in ascesa del no code ovvero anche chi non sa programmare sa comunque grazie a degli strumenti far fare alle macchine ciò che prima veniva fatto fare mediante delle stringhe di codice poi qui una mezza defiance dice Tesla è una start up e ha battuto GM e Ford Chrysler Steve Jobs e Bill Gates hanno battuto IBM quindi accomuna delle cose che sono un po' differenti poi si passa alla difesa dei regimi autoritari fa un elogio alla dittatura in Germania del 33 o meglio dal 33 al 34 dice il dittatore ha raggiunto importantissimi traguardi economici ha risollevato l'economia e quindi è stato bravo quindi non c'è da stupirsi che poi ci siano altri regimi autoritari che gli sono piaciuti molto dice non so se lui direttamente o comunque una diplomatica cinese e quindi fa dire a lei e non lo dice lui in prima persona che hanno fatto bene in Cina a placare la protesta di piazza Tiananmen lui nel libro è estremamente bullish sulla Cina e qui apriamo una parentesi il libro è uscito fine 2021 scritto a metà 2020 guarda caso lui ha aperto fondo a Singapore dice gli piace la Cina e così via quindi viene da chiedersi ma queste considerazioni che fa nel libro sono fatte in modo da convincere i grossi investitori istituzionali cinesi e singaporegni ad investire nel suo fondo e quindi c'è un'agenda dietro la pubblicazione di questo libro o lui lo fa solo per pubblicare per diffondere la conoscenza e a quel punto lì lui non parla mai di collasso della popolazione che invece teme Elon Musk ci sono anche interviste in cui Elon Musk ad esempio teme questo collasso persino in Cina dove c'è stata la One Child Policy ovvero era pietato ai cinesi fare più di un figlio poiché la popolazione cinese era cresciuta in maniera veramente esponenziale ci sarà presto un picco nella popolazione nel 2030 arriveranno a 1 miliardo e 460 milioni poi tra 70 anni calerà la popolazione di 400 milioni piramide come potete vedere è già quasi inversa perché hanno la fascia 30-34 che è molto più ampia della fascia 04 stessa cosa fascia 45-49 stesso problema dell'Italia sostanzialmente questo problema però non preoccupa Reitalio probabilmente perché avendo 72 anni sicuramente al 2070-75 e così via non è una grossa preoccupazione per lui diciamo e come dice Elon Musk nonostante questa One Child Policy sia stata eliminata comunque il tasso di fertilità per donna resta comunque attorno all'1,60 per mantenere la popolazione costante bisogna avere un tasso di 2 e 10 qualcosa e quindi il problema è il collasso della popolazione quello significa collasso della popolazione che ci sono delle infrastrutture extra che non saranno serviced perché non c'è abbastanza gettito o non c'è abbastanza volume per farle andare, per farle funzionare e già c'è quel problema di Ghost City in Cina e tra l'altro da quando è uscito questo libro sono successe varie cose come il fallimento di Evre Grande sappiamo bene quanto è importante l'immobiliare all'interno della produzione totale della Cina e dunque da quando è uscito il libro le cose sono cambiate lui poi ha fatto uscire dei video, delle interviste però questa cosa non mi sembra l'abbia accennata molto spesso diciamo non l'ha preoccupato il crollo del mercato immobiliare cinese e quindi va a fortificare il mio sospetto ma tu queste cose le stai dicendo perché vuoi farci un favore o perché ti servono clienti altra preoccupazione siccome lui parla di eserciti, di guerre, di cambiamento dell'ordine globale dove ci sono gli imperi che si sfidano e così via lui non teme la guerra nucleare mentre se a leggervi diciamo interviste o comunque riviste o giornali degli anni 60-70 ai tempi della guerra fredda adesso la preoccupazione principale è il climate change prima era la guerra nucleare e questa cosa è notata ma molto spesso Charlie Munger, altro miliardario socio di Warren Buffett ultra novantenne che quindi ha vissuto questi periodi di cui vi parlo e che al tempo stesso è comunque molto long e molto esposto su Alibaba quindi azioni cinesi dice che la guerra nucleare era il principale problema del tempo ad esempio in questo articolo qui 16 febbraio 2022 guerra nucleare al primo posto e poi vengono tutte le altre l'inflazione a parte la guerra nucleare è al primo quindi strano che Dalio ci parli di guerre e pensi che vengano ancora combattute senza armi nucleari almeno strano per me poi non so cosa ne pensate voi più avanti nel libro lui racconta di come è andato Brock nel 1982 e questo è il primo libro che leggo di Ray Dalio però è probabile che l'abbia scritto anche in altri libri la storia vuole che lui ha predetto depressione globale si era posizionato in un certo modo le cose non sono andate come pensava andassero lui e lui si è fatto prestare 4.000 dollari da suo padre per pagare le bollette e gli alimentari per la sua famiglia e qui bisogna sempre capire se lo dice per diciamo avvicinarsi al lettore se c'è una qualche agenda un qualche secondo scopo in ogni caso perché fa questa narrativa questa storia io ho perso una scaterra di soldi è stata la cosa più bella che mi sia successa mi fa scompisciare come la dice lui e quindi da lì lui ha creato l'All Weather ovvero tutte le stagioni un portafoglio che non ti fa mai perdere troppo e qui voglio aprire una parentesi l'All Weather che non ti fa mai perdere troppo è una strategia, una filosofia che va bene se tu hai un profilo estremamente conservativo profilo estremamente conservativo chi può averlo? uno che è vicino alla pensione uno che ha già tanto e non può assolutamente perdere ma se tu hai un orizzonte temporale estremamente lungo non è tanto conveniente non è tanto saggio a mio modo di vedere avere un profilo conservativo il cui obiettivo principale è la minimizzazione del downside quando sarebbe più saggio quando hai poco avere come obiettivo la massimizzazione dell'upside tralasciando le paure della volatilità cioè se tu hai poco e niente e punti a proteggere quel poco e niente che hai stai limitando tantissimo le tue possibilità di salire e arrivare ad un livello accettabile quindi secondo me bisogna ragionare bisogna riflettere su questa cosa qui l'all weather non è assolutamente per tutti e probabilmente se pensi che sia per te non è detto che sia così chiuso questa parentesi secondo lui il sorpasso della Cina sugli USA avverrà tra 4 anni da quando ha scritto il libro quindi nel 2025 secondo i suoi modelli secondo gli algoritmi che hanno elaborato inserendo tutti gli input di cui abbiamo parlato nel sommario ed effettuando le elaborazioni del caso lui o i suoi modelli proiettano per l'Italia una decrescita in termini reali che va dallo 0,5% allo 0,7% ogni anno per 10 anni quindi tanto per cambiare noi italiani tra 10 anni saremo più poveri di quanto non siamo oggi allegria aggiungiamoci la piramide demografica italiana enorme calo della popolazione quindi molte meno persone produrranno genereranno reddito e quindi gettito il gettito serve a finanziare la spesa pubblica senza gettito e senza spesa pubblica o si aumentano le tasse o comunque il tenore di vita comunque si abbassa molto più che proporzionalmente e molto più in fretta di quanto ho preventivato quindi adesso auguro a quelli che dicono ah io faccio il PAC tra 30 anni e poi mi ritiro in Italia o faccio il fondo pensione e poi mi ritiro in Italia cioè pensate bene tra 30 anni qual è il livello di benessere che ci sarà in Italia magari dici scappo tra 10 e allora dici se devo scappare tra 10 tanto vale scappare ora quindi non lo dico per mettervi paura per incutervi timore però pensate già molto avanti poi magari non succede magari arriviamo ad una prosperità mai vista prima però bisogna programmare non focalizzandosi solo sul rendimento che possono dare i mercati finanziari perché secondo me non sarà sufficiente chiusa questa ennesima parentesi poi parla sempre di guerra dice dopo la guerra nel South China Sea ovvero per il controllo di Taiwan si sposteranno o in India o in Vietnam però non approfondisce se lui intende che ci sarà uno spostamento di produzione in questi paesi e dunque una conseguente guerra oppure se direttamente qualcuno proverà a combattere e a impadronirsi di India e Vietnam questo non l'ha approfondito l'ha detto in una frase così poi tutte queste citazioni che vi ho fatto adesso non ho detto a che pagina viene spiegato questo concetto qui però se volete dei chiarimenti vi metto la citazione la pagina per file per segno questo è un video su YouTube e solo per dare un'infarinatura generale poi vi comprate voi il libro e ve lo leggete voi se volete approfondire un concetto interessante dice che la ricchezza ereditata non dura questo non è chiaro se fosse riguardo alla famiglia o comunque alla ricchezza ereditata da un paese e qui ovviamente si può fare l'analogia sull'Italia sul benessere sul seguente il miracolo economico quindi dagli anni 60 si è creata la prosperità anni 80 si si sta bene con la prosperità creata adesso noi cosa stiamo facendo stiamo sperando di campare sempre di questa eredità però già ora si vede che siamo in declino siamo sotto ai livelli di benessere del 2006-2007 figuriamoci quando arriveremo a raggiungerli e poi dice ad esempio su questa ricchezza ereditata va molto nel passato al post-rivoluzione in Russia quando ammazzarono gli czar la famiglia reale poi paragona i principi di finanza personale a quelli della finanza pubblica questa cosa secondo me ci sta nel senso ci sono le entrate i costi stato patrimoniale con attivo e passivo quindi tu devi gestire queste voci qui ed arrivare ad un obiettivo di economicità chiaro che la finanza pubblica si nutre di tasse che può imporre a piacimento sulla popolazione finanza domestica le tue entrate dipendono per la maggior parte delle persone dal lavoro se non lavori non è che puoi rubare i soldi alla gente in modo da spendere soldi che non meriti e che non hai poi c'è una parte in cui dice di non essere preoccupato di schierarsi o di parlare liberamente speak up però molti gliel'hanno sconsigliato e questo secondo me è sempre uno schema per guadagnare capitali in South East Asia qui di nuovo dice la Cina è meglio degli Stati Uniti perché la Cina fa strategia quindi pensa a lungo termine gli Stati Uniti fanno tattica quindi pensano al breve termine questa parte se pubblicherò un altro video la spiegherò un po' meglio però in breve dice che la Cina è meglio degli Stati Uniti in questo caso quindi il sistema autoritario cinese è migliore del sistema democratico degli Stati Uniti perché producono questi risultati qui e poi spiega perché si è arrivati a questa filosofia long termismo short termismo per chiudere dice espressamente che il sistema riserva franzionaria è uno schema Ponzi e se volete vi dico anche a che pagina lo dice adesso non mi ricordo qual è esattamente secondo lui capitalismo e comunismo vanno riformati e va trovata una terza via ma questo lo dice già da un tot e personalmente lo dice sempre perché c'è quell'agenda lì e potenzialmente un'altra agenda che lui potrebbe avere è quella di puntare alla presidenza degli Stati Uniti non so in che anno però secondo me può anche provarci lui come conseguenza dice che la lotta di classe quindi il conflitto interno nel big cycle è quella che fa crollare l'impero perché ti vedono debole da dentro e provano a ucciderti provano a metterti KO provano ad annientarti sui mercati finanziari e sull'Europa la sua considerazione è che è relegata ad essere al massimo second best troppo frammentata all'interno l'euro quasi mai manterrà il suo prestigio come valuta di riserva e quindi diciamo è chiaro perché lui non investe non vorrebbe investire in Europa preferirebbe la Cina qui sulla valuta di riserva si potrebbe anche parlare diciamo del privilegio eccessivo che hanno questi stati che possono prendere a prestito da investitori di paesi più poveri come ha fatto l'America dalla Cina questo privilegio li arricchisce momentaneamente in quanto aumenta il consumo interno però poi stai vivendo al di sopra delle tue possibilità stai facendo il passo più lungo della gamba quando poi c'è da restituire questo debito o svaluti o fai default e a quel punto lì è game over signore e signori grazie per essere arrivati fin qui speriamo di sentirci per la terza parte un abbraccio virtuale ciao ciao ciao